Urla, calci, pugni, spintoni. E' questo lo scenario che lo scorso 16 agosto si è presentato davanti agli occhi di decine di cittadini, residenti e turisti. Una lite nata tra diversi nuclei familiari, provenienti dai paesi vesuviani. L'episodio è accaduto in una traversa di via Giolitti ad Agropoli, intorno alle 23.45 di lunedì 16 agosto. Alla base della violenta lite, che è poi finita in una vera e propria aggressione tra parenti, ci sarebbero motivi legati a gelosie e questioni di famiglia. Da alcune testimonianze di cittadini presenti sul posto, che hanno assistito alla scena, pare il battibecco sia iniziato prima tra donne e poi a terminare il tutto ci hanno pensato i rispettivi mariti, tra l'altro anche parenti. 9. Le persone coinvolte. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabio Lagarello, che hanno provveduto a sedare la lite e ad identificare i responsabili dell'aggressione. Per alcuni di loro è stato necessario anche il trasporto in ospedale. Il tutto è stato ripreso da varie persone presenti e condiviso sui social. Il video è diventato immediatamente virale, scatenando la rabbia dei residenti della città di Agropoli per quanto accaduto. Ad intervenire sulla vicenda è anche il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Condanniamo fermamente quanto è accaduto ieri sera, in prossimità del centro di Agropoli, dice il sindaco. Una vicenda familiare, da quanto si apprende, sfociata in una violenta lite in strada. Prendiamo le distanze da tali circostanze. La violenza va sempre condannata. Senza se e senza ma, perché non è mai giustificabile. La nostra città, che fa dell'accoglienza il suo principale punto di forza, non è abituata ad atti simili.